Ben ritrovati a tutti qui sul canale YouTube BG Models e buoni truccioli. Oggi voglio provare insieme a voi una macchina che ho preso dal catalogo VEVOR e si tratta di un'affilatrice per punte a forare, punte per il trapano, da 3 mm fino a 13 mm. Quindi sapete che i nostri utensili vanno sempre tenuti nelle migliori condizioni di taglio, di affilatura dei loro taglienti. Quindi vediamo che cosa può fare questa macchina, specialmente per chi usa frequentemente punte per il trapano. Quindi vediamo subito la prova di questa affilatrice VEVOR. Andiamo a vedere. Bene, questa è l'affilatrice della VEVOR che sarà oggetto della prova che faremo insieme. Una macchina che dà l'impressione della robustezza, molto pesante, con un buon motore, molto silenzioso. Tutto è in metallo. In dotazione vengono date tutte le pinze ER per tenere le punte, da 2 mm fino a 13 mm. Quindi potremmo affilare questo range di punte con un pratico deposito, diciamo, per le nostre pinze ER da averle sempre a portata di mano. Qua abbiamo la mola, in questo comodo vano qui. Una mola molto efficace, devo dire, questa è per gli acciai in HSS, punte tradizionali. Però in dotazione alla macchina viene data anche una mola di ricambio per il metallo duro, quindi punte al carburo di tungsteno o simili, che si può naturalmente sostituire qua, svitando questa brugola e mettendo la pietra di ricambio. Questo è il portapunte che poi vedremo come si utilizzerà per quando facciamo le operazioni di affilatura. Il manuale in dotazione è in inglese, o simili inglese, diciamoci inglese, per meglio dire. Comunque adesso andremo a vedere esattamente tutte le operazioni che si fanno per affilare una punta, quindi nella mia prova adesso andiamo a vedere proprio l'affilatura delle punte utilizzando questa macchina. Mettiamo subito alla prova questa affilatrice della Wevor, vediamo un po'. Avevo in un cassetto delle punte vecchissime che uno tiene lì perché dice domani le affilo, ma poi dopo rimangono lì. Ad esempio prendiamo questa, 8 mm, e naturalmente vedete in che stato è, la punta è completamente andata, insomma, ha fatto il suo lavoro. Per cui magari passiamo un po' di gu doppio di 40, tanto per pulire un attimino, insomma, dall'ossido. Bene, quindi proviamo a riaffilare questa punta. La prima cosa che dobbiamo fare è scegliere la pinza adatta per usare nella macchina. Quindi vedete qua c'è il portapinze R, molto bello, da 7-8 mm, usiamo questa. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è prendere questo specie di mandrino, svitarlo e porre qui il nostro, la nostra pinza R. Poi lo riavvitiamo senza stringerlo e infiliamo la punta. Bene, lo mettiamo, non lo stringiamo in questa fase qui, perché la punta deve muoversi, perché dobbiamo andare a metterlo qua, in questo accessorio, sulla macchina, che ci consente di far sporgere la punta alla giusta dimensione e col giusto orientamento. Quindi questo andiamo a metterlo, lo alzeriamo, facendo così poi, qui ci sono dei numeri, scegliamo 8, che è il diametro della nostra punta, e poi infiliamo questo così, giriamo la punta, qui c'è una battuta naturalmente, basta infilare la punta, andare a battuta, girarla, così in senso orario, finché non si ferma e adesso possiamo stringere. e abbiamo ottenuto, vedete, di avere la punta che sporge nella misura corretta per la mola di questa macchina e i taglienti devono essere paralleli con questi slot qui, con queste facce qui, di questo accessorio, questo e questo, che devono essere paralleli a questo e questo. Quindi è interessante, questa macchina ha questo accessorio che consente di regolare la punta nella giusta posizione. Quindi poi questa parte qui è quella per l'affilatura, si può regolare in maniera da fare vari angoli di affilatura, in questo momento è regolata uno degli angoli più usati, che è a 118 gradi, e poi dovremmo inserire questa così, praticamente. Quindi accendiamo la macchina, inseriamo, non possiamo sbagliarci perché abbiamo la scanellatura, e poi cominciamo a ruotare. Praticamente adesso la punta va in contatto con la mola, e diciamo abbiamo finito l'operazione quando non sentiamo più il rumore della mola che va a lavorare il tagliente. Quindi adesso è finito. Quindi giriamo, facciamo l'altro tagliente, e facciamo la stessa operazione, piano piano, girando. La mola va a rifare, a ricostruire i taglienti, la faccia anteriore della nostra punta elicoidale, e quindi abbiamo finito. Bene, vedete? Questa è una filatura normale, tradizionale, a due facce, naturalmente. Quelle che si trovano comunemente, che però naturalmente, come ho detto varie volte, presenta questa cuspide qui, il raccordo fra i due taglienti, che non possiede proprietà di taglio, non taglia, quindi striscia e basta sul materiale, che crea del calore, se non si fa un preforo, almeno della, diciamo, della dimensione di questa cuspide. Ma ecco, però, con questa macchina possiamo spingerci oltre, perché può fare la filatura a quattro superfici, utilizzando questo. Quindi, senza togliere niente, noi mettiamo questa adesso in questa posizione qui, e in pratica andiamo, con questa spina, andiamo a lavorare la punta. Quindi la mettiamo qua, e poi giriamo. Diciamo che questo mandrino è guidato in maniera tale che possa fare solo questo movimento, dato dal fermo che abbiamo sistemato. Questo fermo si può mettere in varie posizioni, a seconda di come vogliamo che vengono fatte queste superfici, che adesso vedremo. Vedete? Piano piano, anche qui, l'operazione termina quando naturalmente non sentiamo più rumore provenire dalla mola. Spendiamo la macchina. In pratica la mola, in questa maniera, ha fatto questa superficie, e questa superficie, cioè ha molato dietro a ogni tagliente, in maniera da raccordare nel centro i taglienti stessi. Quindi questa punta adesso è molto più efficace, perché presenta qualità autocentranti, e se vogliamo non necessita neanche del preforo, perché questa parte fino a qua risulta tagliente, vedete? e naturalmente anche dall'altra parte. Questa regolazione non va praticamente toccata al momento, perché regola il fatto che la molatura venga proprio fino nel centro esatto del tagliente, quindi eventualmente quando si dovesse usurare un pochettino, consumare un pochettino la mola interna, questa si può controllare in maniera da riportare proprio la molatura esattamente nel centro della nostra cuspide. A questo punto naturalmente basta tirarla fuori, e questa è la nostra punta che era completamente rovinata, e adesso invece è meglio che da nuova, vedete? Riproviamo con una punta più piccola da 4 mm, quindi togliamo la pinza R, prendiamo la pinza da 4 mm fino a 4 mm, vediamo in dettaglio l'operazione che deve essere fatta, questa regolazione la alzeriamo e poi la mandiamo su 4 mm, che è la dimensione della nostra punta, infiliamo questo, andiamo alla battuta con la nostra punta, vedete? Giriamo finché va la battuta e poi seriamo la pinza. A questo punto, come prima, accendiamo la macchina, infiliamo qui, qua c'è praticamente la battuta di arresto, e giriamo finché non sentiamo più rumore. Al contrario, sempre infiliamo sulla battuta di arresto, quindi questa sarebbe già pronta così, usiamo questa parte della macchina e questo andrà qua, quindi noi lo mettiamo qui, vediamo al contrario, naturalmente è una punta molto piccola, per cui è molto veloce l'operazione. Ed ecco, vedete? Questa superficie dietro al tagliente, come prima, e superficie dietro al tagliente. Quindi vediamo la nostra punta con l'aiuto di un microscopio, vedete? Questo è il tagliente creato dalla prima operazione, questo qui, questi qui, a 118 gradi uno rispetto all'altro, vedete? Questi sono i taglienti, e questa è la superficie che abbiamo fatto dopo. Vedete che va praticamente fino alla punta del tagliente e li raccorda nel centro, in pratica, dando alla punta delle caratteristiche di taglio migliori, vedete? Quindi adesso andiamo subito a provare la nostra punta da 8 mm per forare una barra di acciaio inox qui sul tornio. Quindi vediamo come si comporta. Naturalmente senza preforo, e quindi vedete molto bene ha ripreso le sue proprietà originarie di taglio su acciaio inox un ottimo risultato. Bene amici, quindi avete visto questa macchina, l'ho trovata veramente fatta molto bene, molto curata in ogni dettaglio, non ho trovato difetti e fa delle affilature veramente praticamente perfette delle nostre punte e devo dire che vale i soldi che costa. Quindi sicuramente sarà un ausilio di fondamentale importanza per chi fa uso spesso di punte a forare. Qua sotto in descrizione vi metterò i link per andarla a vedere sul catalogo VEVOR, mi hanno rilasciato anche un coupon di sconto e spero che sia una cosa gradita. quindi se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale con la campanellina per rimanere aggiornati e ci vediamo presto qui sul canale YouTube oppure sul sito ebgmodels.it Ciao a tutti e in questo caso buone affilature!